La produzione industriale a Lucca, Pistoia e Prato continua ad essere il recupero, ma rimane grande preoccupazione per il futuro. È il giudizio di Confindustria Toscana Nord sui dati relativi al secondo semestre 2022. In particolare, il livello della produzione tra aprile e giugno di quest'anno segna un più 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2021. Diverso però è l'andamento tra le tre province, con Lucca e Pistoia più stabili, rispettivamente più 1,8% e più 0,7%, mentre Prato, il territorio che nella pandemia aveva perso di più e che aveva quindi più terreno da recuperare, segna un buon più 8,8%. A Lucca registrano ancora un segno meno le prestazioni della moda e della chimica plastica. Spicca invece l'andamento del settore metallurgico, positivi anche i dati relativi alla meccanica, alla nautica, alimentare, lapideo e carta. Per quanto riguarda Pistoia, sono in calo le prestazioni di chimica plastica, alimentari e soprattutto arredamento, che include anche i materassi. Settori però, spiegano da Confindustria, che vengono da stagioni con prestazioni 2021 molto buone. Tra gli altri settori si segnalano le ottime prestazioni del calzaturiero, seguito dall'abbigliamento maglieria, carta-carto tecnica, metallmeccanica. Stabile a Pistoia il settore del tessile, che invece a Prato registra un incremento a due cifre, seguito da un buon incremento anche del meccano tessile. Il sistema produttivo pratese complessivamente riprende quota, ma a trainarlo sono settori particolarmente energivori, che quindi soffrono molto del rincaro dell'energia. Per il resto, l'incremento dei prezzi di energia, gas e materie prime e l'evoluzione del quadro economico-politico nazionale ed internazionale preoccupano tutte le imprese per quanto riguarda le prospettive future.